allora buonasera bentrovati vedo faccio il nuovo e faccio conosciute bentornati al nostro appuntamento con di alchemist beh io lascio la parola adesso a francesco pili neo il brand ambassador di gmare grazie a tutti e mi ripresento io sono francesco pire neo sono brand ambassador per gmare e lavoro per un'azienda che l'importatrice di gmare sul territorio italiano che si chiama compagna dei caraibi oggi siamo qua parlando un po di gmare oggi come diceva patrick il trend degli ultimi anni è legato molto al gin tonic nascono tanti locali tra questi troviamo anche il gin corner qui a roma sulla scia di questo che è il trend degli ultimi anni sulla moda che è quella un po del gin tonic che oggettivamente il consumatore voi che siete consumatori richiedete anche questo quindi chiedete il gin tonic chiedete sempre di differenziarvi rispetto a quelli che sono i canoni standard delle bevute del gin tonic ekti a Grazie a tutti.